Salve a tutti, l'argomento che vorrei trattare oggi in questo video è la posizione di Salvini sulla guerra in Ucraina, o più precisamente se sia possibile ricostruire la posizione di Salvini sulla guerra in Ucraina. Se noi ci limitassimo alle decisioni che Salvini ha preso finora con riferimento alla guerra non andremmo molto lontano, perché? Perché la sociologia insegna che molto spesso i leader di partito, gli uomini politici, prendono decisioni in cui non credono, prendono queste decisioni in cui non credono perché operano in un campo di forze oggettive di cui devono tenere conto. Quindi dal punto di vista metodologico credo che il modo migliore di procedere sia quello di ricostruire, di dire due parole sul campo di forze oggettive in cui si muove Salvini e non soltanto Salvini, poi cercare di utilizzare i documenti disponibili che sono pubblici, quelli che utilizzerò, quindi nella disponibilità di tutti, per approfondire il rapporto tra Salvini e la guerra in Ucraina. Iniziamo dal campo di forze oggettive. Questo è caratterizzato da una serie di elementi, io per motivi di sintesi ne indicherò soltanto alcuni. Il primo è la presenza in Italia di 120 basi della Nato più circa 20 basi segrete, quindi parliamo di un numero molto imponente. Dal mio punto di vista le basi della Nato in Italia rappresentano una sorta di partito di maggioranza relativo che è presente in tutti i governi italiani, di centro, di destra, di sinistra, governi di unità nazionale, fate voi. Ne consegue, e questa è sempre la mia tesi, ne consegue che in Italia è impossibile governare avendo contro tutte queste basi della Nato. Se Giorgia Meloni prendesse decisioni contrarie agli interessi della Nato in Italia, Biden certamente cercherebbe di destabilizzare Giorgia Meloni, di destabilizzare il suo governo, nel caso in cui non riuscisse a ottenere il suo rovesciamento attraverso una serie di manovre, certamente le renderebbe la vita molto difficile. Il fatto che io dica questo non significa che io sia contrario alla Nato. Ho fatto un video su questo, per chiarire che invece io sono convinto che l'Italia debba rimanere all'interno della Nato e nel sistema di alleanze che ci lega fortemente agli Stati Uniti, anche se sono molto critico dalle politiche di Biden in Ucraina, penso che Biden stia combinando soltanto disastri che stia operando contro gli interessi dell'Europa e chiaramente anche contro gli interessi dell'Italia. Ci tengo a chiarirlo perché un dibattito, un dibattito culturale adeguato non scivole in questo tipo di errori. Quindi se uno studioso ricostruisce un campo di forze oggettive e dice che il governo Meloni deve fare i conti, quindi anche Salvini deve fare i conti con tutte queste basi della Nato presenti sul territorio italiano, questa affermazione non può essere utilizzata per ricavare qualcosa che quello studioso non ha detto. Questo è un fenomeno che purtroppo si verifica spesso in Italia, dove il dibattito sulla guerra in Ucraina il dibattito culturale è a un livello bassissimo, perché purtroppo i nostri media dominanti sono a un livello bassissimo. Quindi se uno studioso dice che il governo Meloni deve fare i conti con tutte queste basi della Nato, allora i media dominanti ne ricavano che Orsini sia contro la Nato. No, questo è semplicemente l'atteggiamento culturale di persone che non hanno la più pallida idea di come si conduca un dibattito intellettuale, un dibattito culturale, un dibattito scientifico. Questa è la prima forza oggettiva con cui Salvini deve fare i conti. La seconda forza oggettiva con cui la Lega, con cui Salvini deve fare i conti, sono proprio i media dominanti. I media dominanti in Italia hanno creato un clima di violenta intolleranza. In Italia non è possibile discutere serenamente e liberamente della guerra in Ucraina i media dominanti, i principali quotidiani italiani, le principali emittenti radiofoniche, le principali trasmissioni televisive, hanno stabilito che chiunque provi a riflettere su quello che sta accadendo in Ucraina, sulle cause della guerra, sulle responsabilità della Nato, sugli errori commessi dalla Casa Bianca in Ucraina, debba essere violentamente aggredito dal punto di vista mediatico. E di questo Salvini chiaramente deve tenere conto in quel che dice e nelle decisioni che prende in Parlamento con riferimento alla guerra in Ucraina. Quindi le basi della Nato e questo clima di violenta intolleranza scatenato dai media dominanti in Italia sono forze oggettive. Che cos'è una forza oggettiva? È una forza che non può essere cambiata, non può essere modificata attraverso la volontà individuale. Se Salvini desiderasse con tutto se stesso che in Italia non ci fossero tutte queste basi della Nato o che i media dominanti operassero diversamente non potrebbe ottenere un bel nulla perché si tratta appunto di forze oggettive sottratte alla volontà individuale di Salvini. Quindi Salvini ci deve fare i conti con queste forze oggettive, punto e basta. Punto e basta. Per quale ragione i media dominanti hanno scatenato un clima di così violenta intolleranza nel nostro paese tale per cui non è possibile discutere serenamente della guerra in Ucraina, fare riflessioni critiche, rivolgere critiche alla Casa Bianca o a Zelensky e così via. La ragione ha a che vedere con la complessità di un sistema. L'Italia è un sistema sociale, il che vuol dire che è composto da un insieme di parti interconnesse. Che cosa significa? Significa che l'uomo comune tende a vedere i media dominanti, le emittenti radiofoniche, le trasmissioni televisive, le case editrici, la Nato, le università come realtà autonome, indipendenti e separate. In realtà in una società complessa gli intrecci sono continui. Nelle case editrici il potere politico conta, contano determinati parlamentari, determinati ministri, così come contano nei media dominanti, nei principali quotidiani nazionali, principali emittenti radiofoniche. C'è un intreccio di poteri. Non è vero che i principali quotidiani nazionali siano del tutto liberi e indipendenti, perché è un sistema complesso e appunto fatto di parti interconnesse. Che questo accada è necessario e in qualche modo indispensabile perché una società complessa non potrebbe essere governata e non potrebbe funzionare correttamente se i suoi elementi costitutivi, le sue parti più importanti, si muovessero in direzioni diverse. Sarebbe una grande confusione e tutto questo sarebbe molto disfunzionale. A questo punto possiamo venire alla posizione di Salvini. Io feci un faccia a faccia con Salvini agli inizi di maggio, credo il 3 maggio del 2022 a carta bianca, al Rai 3. In quell'occasione Salvini pronunciò una frase di questo tipo e ovviamente mi scuso con voi, questa è una chiacchierata tra amici nel caso in cui sia impreciso, ma comunque il video è su YouTube ed è nella disponibilità di tutti. Salvini disse qualcosa del tipo se un mio viaggio a Mosca potesse dare un contributo ad avviare un dialogo diplomatico con la Russia, certamente andrei a Mosca. Il giorno dopo fu mediaticamente aggredito, violentamente aggredito e duramente criticato anche dal governo Draghi, dall'allora ministro degli esteri italiano. Io penso che tutti voi ricorderete l'aggressione mediatica che Salvini subì per avere detto di essere favorevole al dialogo con la Russia per risolvere la crisi in Ucraina o quantomeno per attenuare l'intensità, la violenza del conflitto. Se voi guardate anche le dichiarazioni rilasciate di recente dal capogruppo della Lega al Senato, e adesso proverò a mostrarvi un articolo del Fatto Quotidiano. Stiamo parlando del senatore leghista Romeo. Vedete qui questo articolo, è stato pubblicato il 27 ottobre del 2022. Il senatore Romeo si è distinto più di una volta, anche di recente alcuni giorni fa, per il suo atteggiamento, diciamo così, critico nei confronti del modo in cui stiamo gestendo la guerra in Ucraina. È una posizione molto vicina a quella di Salvini, io mi scuso se non riesco a mostrare bene l'articolo, comunque eccolo qui, eccolo qui, articolo del Fatto Quotidiano, magari leggo qualche brano. L'Ucraina contro il senatore leghista Romeo, ci sono politici che cercano di compiacere Putin. Questo è un virgolettato, quindi è il governo di Kiev che attacca, scusate, ho avuto un problema con il cellulare che mi è sfuggito di mano, ma qui siamo tra amici, quindi mi perdonerete queste piccole disavventure. Quando parliamo di campo di forze oggettive dobbiamo aggiungere anche questo elemento, quindi non soltanto le basi della Nato, non soltanto i media dominanti che in Italia hanno scatenato un clima di violenta intolleranza nei confronti di chiunque ragioni sulla guerra in Ucraina, dobbiamo considerare anche la capacità del governo di Kiev di intervenire nella politica italiana, cosa che è avvenuta più volte. Il governo di Kiev interviene, interferisce nelle nostre decisioni, interferisce nella nostra vita pubblica, bacchettando tutti i politici, appunto anche il senatore Romeo, che cercano di porsi questa domanda. Ma siamo sicuri che stiamo facendo tutto bene in Ucraina, visto che il paese è distrutto, visto che la Russia non è caduta? Pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione, come i media dominanti avevano annunciato, semplicemente anche porsi domande, scatena questa aggressione mediatica di cui è partecipe anche il governo di Kiev. Quindi il governo di Kiev si intromette nel dibattito pubblico italiano per bacchettare, se non addirittura per bastonare i politici che semplicemente sollevano dubbi o domande. Vedete, questo è l'articolo, appunto, vedete, l'Ucraina contro il senatore leghista Romeo, ci sono politici che cercano di compiacere Putin, dice il governo di Kiev, contro Romeo, 27 ottobre 2022, leggiamo qualche brano, durante la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni, il capogruppo della Lega ha detto che si fa fatica a sentire che decideranno gli ucraini, meglio dire che decide la comunità internazionale. La dura reazione del portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Kiev, diffondendo narrazioni russe, incoraggiano la Russia a continuare i suoi crimini. Qui l'articolo va avanti, ma ripeto le posizioni di Romeo, tra l'altro Romeo di recente appunto è intervenuto in Senato per sollevare alcuni dubbi, nonostante abbia votato in favore del prossimo invio di armi a Kiev. A mio giudizio Salvini pensa che stiamo combinando un disastro in Ucraina, mentre Salvini non si può esprimere in questo modo, questa è soltanto la mia interpretazione. La mia impressione sulla base della documentazione disponibile, come si dice, è che Salvini sia molto critico del modo in cui il blocco occidentale guidato da Biden sta conducendo la guerra in Ucraina, molto critico di quello che è successo prima del 24 febbraio del 2022, molto critico nei confronti di quello che abbiamo progettato e delle mosse che intendiamo fare in futuro, cioè che intendiamo, nel senso il blocco occidentale guidato da Biden. Credo di poter dire la stessa cosa con riferimento a Forza Italia, ma su questo non mi sbilancio perché poi magari farò un video dedicato a Forza Italia, la posizione di Berlusconi sulla guerra in Ucraina. Secondo me Salvini sta aspettando il momento giusto per poter avviare un dialogo diplomatico con la Russia, sta aspettando che maturino le circostanze per poter avviare un'iniziativa di questo tipo. In questo momento non può farlo, per le ragioni che ho indicato, ci sono forze oggettive che glielo impediscono, ma credo, anzi sono convinto, che se Salvini potesse parlare liberamente direbbe che Biden ha creato un disastro in Ucraina e stesso discorso la von der Leyen. Qual è la ragione per cui in Italia non è possibile parlare liberamente della guerra in Ucraina? La ragione è che noi italiani dobbiamo essere predisposti a recepire le decisioni della Casa Bianca, le decisioni di Biden, perché abbiamo 120 basi della Nato, forse 140 se includiamo anche quelle segrete. Quindi il nostro paese, gli italiani, non devono essere posti nella condizione di conoscere i disastri che Biden sta creando in Ucraina contro gli interessi dell'Italia e contro gli interessi dell'Europa, perché se noi siamo un paese che deve limitarsi a eseguire le decisioni prese da Biden è chiaro che meno pensiamo, meno ragioniamo, meglio è. Vedrete, vedrete infatti che come sempre accade, oggi Biden dice diplomazia zero con la Russia, i media dominanti in Italia, emittenti radiofoniche, i principali quotidiani, le principali trasmissioni televisive dicono diplomazia zero con la Russia, se domani Biden dovesse dire beh adesso è arrivato il momento di aprire un canale diplomatico con la Russia, i principali quotidiani italiani, le principali trasmissioni televisive, le principali emittenti radiofoniche direbbero beh adesso è arrivato il momento di aprire un canale diplomatico con la Russia, senza il minimo imbarazzo, facendo apparire tutto questo come il frutto di una riflessione autonoma e indipendente, quindi i principali quotidiani italiani direbbero no, ma noi adesso siamo arrivati alla conclusione che si è giunto il momento di dialogare con la Russia, perché? Perché ci siamo arrivati in maniera libera e indipendente, però gli studiosi che hanno contezza di tutto quello che accade, che raccolgono documenti, raccolgono informazioni, dicono ma guarda un po' strano, quando Biden diceva diplomazia zero con la Russia, i principali quotidiani italiani, i principali emittenti radiofoniche, le principali trasmissioni televisive dicevano diplomazia zero con la Russia, adesso che Biden ha cambiato idea, tutti quanti i gruppi di poteri che ho citato ripetono pappagallescamente quello che Biden sta dicendo. Questo è molto triste, è molto triste che un paese ricco di cultura come l'Italia, un paese importante come l'Italia debba essere asservito intellettualmente in questo modo, non ho nessun problema che in Italia ci siano 120 o 140 basi della Nato, provo un senso di vergogna nel vedere che il mio paese sia ridotto in questo stato, uno stato davvero pietoso e avvilente. Faccio presente che i principali quotidiani italiani dopo 11 mesi di guerra ancora si rifiutano di discutere delle cause della guerra in Ucraina. Spaventoso, impressionante, dopo 11 mesi di guerra ancora i principali quotidiani italiani si rifiutano di aprire una discussione sulle loro pagine relativa alle cause della guerra in Ucraina. È chiaro che se noi non siamo in grado di rimuovere le cause profonde che hanno scatenato la guerra in Ucraina siamo destinati a ripetere sempre gli stessi errori e soprattutto siamo destinati a non uscire da questo inferno. La ragione per cui i principali quotidiani italiani non vogliono riflettere sulle cause della guerra in Ucraina, perché una delle cause della guerra in Ucraina, una delle principali se non la più importante in assoluto, almeno questa è la mia tesi, è l'espansione della Nato verso i confini della Russia e siccome in Italia ci sono 120 basi della Nato più 20 basi segrete e siccome nessun governo italiano può governare contro queste basi, gli italiani non devono acquisire la consapevolezza dell'errore enorme che è stato fatto dalla Nato nel suo tentativo di inglobare l'Ucraina nel proprio seno. Non soltanto l'Ucraina ma anche la Georgia e chiaramente anche la Finlandia e la Svezia. Siccome non è possibile arrestare l'avanzata della Nato verso i confini della Russia, altrimenti la Casa Bianca e Biden si schiererebbe contro qualunque governo italiano, gli italiani non devono poter discutere, non devono poter ragionare. In Italia adesso c'è questo divieto, divieto di ragionare criticamente su quello che sta accadendo in Ucraina. Va bene, vi ringrazio molto e a presto.